Ciao a tutti, sono Valeria di Cimalp Italia e oggi vi parlerò dei Vision One, la collezione di occhiali sportivi ideati e realizzati da Cimalp. Questi sono i Vision One Sport, che grazie al loro design innovativo garantiscono un ampio campo visivo e non si appannano in caso di intensa attività fisica. Il ponte nasale e le astine sono regolabili, in modo tale da facilitare la regolazione e la stabilità del tuo occhiale. La montatura in Grilla Mid TR90 sarà leggerissima e super confortevole. Le lenti da 48 mm categoria 3 sono realizzate in policarbonato infrangibile e ti proteggeranno al meglio dai raggi UV. Anche nel modello Vision One All Mountain il ponte nasale e le astine sono regolabili, in modo tale da avere un grip perfetto. Anche in questo caso la montatura è realizzata in Grilla Mid TR90, le lenti sono da 48 mm in policarbonato infrangibili e sono occhiali che ti garantiranno la perfetta protezione dai raggi UV. Ciò che distingue gli All Mountain dai Vision One Sport è la montatura removibile. Infatti, negli All Mountain la parte inferiore della montatura è removibile grazie al ponte del naso che può essere rimosso e reinserito. In questo modo avrai un occhiale molto più leggero e dal design diverso. Praticamente sarà come avere un altro paio di occhiali. Potete trovare i nostri Vision One visitando il sito www.cimalp.it dove, grazie al configuratore, potete personalizzare e cambiare il colore del ponte nasale e le componenti delle stecche degli occhiali. E mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, cimalp-italia.